E così in compagnia di Alessandro Bastoni, primo round, ancora tanto da giocarsi, ma quanto vale questo risultato in un campo difficile? Era molto importante per dimostrare specialmente a noi stessi chi siamo davvero, l'ho detto anche ieri in conferenza, sapevamo che c'era da fare una grande partita per fare il risultato qua, siamo contenti di averlo fatto. Oltre ad aver fatto una grande partita in fase difensiva sei stato anche protagonista, hai messo il tuo zampino nelle due giocate che hanno portato ai gol dell'Inter, insomma MVP della partita, raccontaci un po' le tue emozioni. Sono contento, ripeto, era importante per la squadra soprattutto trovare un risultato così importante perché venivamo da partite secondo me ben giocate, magari dove non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Sicuramente sono contento di aver aiutato la squadra, è quello che so fare, sono contento di aver fatto un assist a bar. Ale, la partita è stata equilibrata, intensa, una vera battaglia direi, ma siete stati magnifici, l'Inter può essere molto soddisfatta per quello fatto in campo? Sì, se giochiamo così con gli attaccanti che ci danno una grande mano, possiamo toglierci tante soddisfazioni, come ho detto prima per venire qua al Daluz e vincere c'era bisogno di questo tipo di prestazione. Avete avuto anche grande concentrazione contro una squadra con grandi giocatori in avanti che hanno creato molte difficoltà in Champions League, era necessaria una partita attenta? Sì, siamo stati bravi, dobbiamo sapere che era solo il primo tempo perché tra una settimana ci aspetterà sicuramente un Benfica ancora più aggressivo che avrà voglia di rimonta, quindi dobbiamo essere contenti ma pensare adesso al Monza e poi al ritorno. E quale ultimissima adesso si ritorna a San Siro di fronte ai nostri tifosi, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Una partita come quella di stasera perché abbiamo dimostrato già anche in passato che se siamo questi possiamo vincere contro chiunque, se invece giochiamo con poca voglia di correre l'uno per l'altro possiamo anche perdere con chiunque, quindi dobbiamo trovare la concentrazione di stasera per vincere. Grazie. Ecco Romelu ti sei preso la scena, ci voleva questa prestazione, ci voleva anche questo gol davanti ai nostri tifosi, che grande soddisfazione. No, sono veramente contento per la squadra prima, abbiamo fatto una bella partita a livello di maturità e sono veramente contento e dobbiamo continuare così a far bene il campionato e poi a prepararci bene per la partita di ritorno. Campo ostico, rivale difficile, ma l'Inter ha affrontato molto bene questa partita, come valuti la prestazione della squadra in generale? Sì, penso che non eravamo nervosi perché quando giochiamo a San Siro c'è molto di più pressione, penso che per loro sarà molto difficile e per noi. Noi eravamo preparati, noi siamo preparati bene gli ultimi giorni per quella partita, l'abbiamo affrontato con un'automa mentalità, con una voglia e poi abbiamo fatto la differenza con questa qualità. Il Benfica, sappiamo, è un grande avversario, ma l'Inter ha dimostrato di sapere affrontare queste sfide con personalità. Quanto è importante la forza del gruppo in partite così? Sì, penso che negli ultimi anni siamo cresciuti come squadra nella Champions. Adesso siamo in una bella situazione dove noi siamo adesso in avvantaggio e dobbiamo chiudere la casa. Ultimissima, in ogni momento abbiamo mantenuto anche la giusta concentrazione. Sì, questo fa vedere che la squadra sta crescendo e adesso è veramente un momento importante perché siamo ancora in tre competizioni. Dobbiamo arrivare più lontani in Champions League, in Coppa Italia e poi arrivare in top 4 del campionato. Grazie, Romelu. Grazie, ciao. Ecco, c'è in compagnia di Henry Mkhitaryan. Henry, partita tosta come ci si aspettava in casa del Benfica, ma l'Inter ha fatto un'ottima gara in termini di gioco. Il risultato è importante, ma ci sono ancora 90 minuti da giocare con la massima concentrazione. Soprattutto tutte le partite sono toste, non ci sono partiti che si gioca facilmente. Anche stasera era una partita difficilissima, però siamo preparati bene, abbiamo mostrato che siamo venuti qua per vincere la partita. Abbiamo lottato e meritavamo di vincere stasera. Ovviamente che non è ancora finita, dobbiamo ancora affrontare la Benfica tra una settimana e speriamo di fare le cose per bene e vincere anche quella partita. Andrea, avete giocato con intelligenza e letto i momenti della gara. Quanto è importante soprattutto in partite come queste? Era importante essere tranquilli, essere lucidi, fare le cose tranquillamente perché sapevamo che le occasioni verranno e siamo stati con pazienza. In primo tempo abbiamo creato un po' di occasioni, non abbiamo riuscito a finalizzarle, però in secondo tempo abbiamo utilizzato i momenti che abbiamo avuti e abbiamo trasformato i gol. Manca ancora la partita di ritorno, c'è ancora strada da fare, ma oggi avete dimostrato come si affrontano queste sfide. Qual è stata per te la chiave del match? Secondo me sì, c'è un'altra settimana per prepararsi per questa partita, però dobbiamo pensare che la prima cosa è che dobbiamo prepararsi per la partita di Monza e dopo la Monza penseremo per la partita contro Benfica. Sappiamo che sarà un'altra gara difficilissima, però dobbiamo essere pronti per quella partita. Grazie, grazie Amigli. Grazie, grazie, grazie. E quel turno di Andrea Onana, Andrea una partita carica di grandi emozioni, con che parole si commenta una gara così? La verità è che è un risultato lavorato, un risultato meritato e sono molto contento del lavoro dell'equipo. La verità è che abbiamo fatto un grande lavoro e io mi chiedo con il sacrificio del gruppo. Abbiamo fatto un grande lavoro, dice Andre, abbiamo lavorato tanto e penso che c'è stata una vittoria meritata. Andre, tutte le partite a questo livello sono difficili, ma oggi c'era un avversario complicato, un rivale scomodo da affrontare con tanta qualità in campo, ma l'Inter ha fatto una grande gara, avete messo tutto. Sì, come lo dico sempre, noi siamo l'Inter, non abbiamo che prepararmi a giocare contro qualche rivale. È certo che abbiamo lavorato contro un grandissimo equipo, abbiamo ganato 0-2. Tocca prepararsi bene per i partiti che ci vengono, perché in San Siro va a essere un'altra pellea. Noi siamo l'Inter, dice Andre, dobbiamo essere sempre pronti per affrontare ogni rivale. È vero che il Benfica era un rivale tosto, difficile, ma abbiamo fatto una grande gara. Andre, abbiamo visto che tutte le partite si giocano e bisogna rimanere concentrati, ma questa partita sicuramente dà fiducia al gruppo. Sì, 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 la verità è che sì, con il momento la situazione che stiamo passando, è un partito che ci dà molta confianza. È certo che giocando per l'Inter non è facile, e hai che mirare avanti. Sono molto contento del lavoro del gruppo e saliamo con molta confianza e molto rinforzati per il partito del fin di settimana e per giocare contro loro in casa. Abbiamo fiducia, dice Andre, anche per la partita nel weekend. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, merito anche del grande lavoro svolto in settimana. Una grande partita, una grande prestazione. Grazie, Andre. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.